Ciao a tutti, oggi video che esula un pochettino dall'argomento solito dei miei video del mio canale però ci tenevo comunque a farvelo perché vedo molto spesso molti di voi che sui vari gruppi non sanno bene come comprare su Aliexpress vi avverto che dopo questo video avrete bisogno di consultare uno psicologo perché incominceranno appunto gli acquisti compulsivi di cose a caso di cui non avete assolutamente bisogno e comunque a parte gli scherzi vi faccio questo video in due parti la prima parte sarà una parte teorica e la seconda una parte pratica adesso parliamo insieme di che cos'è Aliexpress e come si riesce a comprare su Aliexpress e dopo vi faccio vedere sul mio cellulare l'app, vi spiego come funziona di fatti può sembrare un video stupido ma in realtà non lo è perché Aliexpress è un sito totalmente sicuro ma mi accorgo molto spesso che molte di voi non sanno bene come si compra e quali sono i trucchetti per non incorrere in prodotti che avete pagato poco ma che comunque non valgono neanche quel poco che li avete pagati io ho alle spalle uno storico d'ordini di circa 140 ordini quindi so comunque di quello che vi parlo dopo comunque lo vedrete sul mio cellulare e vi faccio un po' una premessa allora innanzitutto dovete considerare che tutto quello che vi arriva, vi arriva dalla Cina questo significa che deve passare la Togana e questo comporta che la merce ci mette comunque parecchio da arrivare stiamo parlando di tempi di attesa che vanno da un mese se siete fortunate ai tre mesi dopo tre mesi voi potete dare benissimo il vostro pacco per disperso e farvi tornare i soldi con il metodo che successivamente diremo però comunque la premessa è questa quindi è inutile che ve ne andate in giro sui vari gruppi, su Answer dovunque a chiedere quanto tempo ci metterà ad arrivare il vostro pacco se qualcuno è già arrivato il pacco intanto è una cosa assolutamente soggettiva perché dipende da pacchi a pacchi da come arrivano alla Togana, da come li fermano, dalla grandezza, dalla forma e non c'entra niente il fatto che voi avete comprato insieme ad una vostra amica con due ordini separati lo stesso prodotto la vostra amica è arrivata al vostro no e quindi significa che non vi arriverà no, vi arriverà però dovete avere comunque pazienza è inutile quindi che vi mettete a dire in giro ah, lei sta cominciando ad arrivare i pacchi ma non mi sta arrivando niente no, devi avere pazienza altrimenti non compri su quest'app perché altrimenti non ha senso stressarti la vita e a continuare ad aspettare questi pacchi e continuare a dire ah, non mi arrivano, non mi arrivano, non mi arriva niente stressi soltanto gli altri ti stressi tu quindi è meglio che eviti di comprare su Aliexpress quindi fatta questa premessa una premessa che comporta il fatto che se voi accettate di comprare su quest'app dovete essere delle persone pazienti altrimenti evitate quindi una volta che vi siete accertati della vostra pazienza dovete cercare quindi qualcosa magari che vi interessa i metodi di ricerca non so come spiegarvelo ci sono diversi metodi di ricerca infatti potete selezionare appunto il nome in italiano e in inglese io vi consiglio di farlo sempre in inglese anche se l'app tende a tradurvi i vari prodotti anche in italiano però cercateli sempre in inglese perché ci sono ovviamente più parole chiavi e più prodotti inseriti con le parole inglesi che con le parole italiane quindi affidatevi sempre a un traduttore usate Google Translate lo conoscono tutti è facile da usare non c'è bisogno appunto che non parlate al cinese che vi sta vendendo una cosa in italiano perché non vi capisce l'inglese è la lingua universale quindi non vi addannate a parlare in italiano perché non potete usate un traduttore fatevi aiutare da qualcuno che conosce appunto l'inglese io ad esempio non lo conosco non conosco una parola di inglese non lo so neanche pronunciare figuriamoci scrivere però mi avvalgo del traduttore e va tutto appunto perfetto riesco a comunicare tranquillamente anche con i cinesini che mi piace chiamarli cinesini perché io li voglio troppo bene ormai io compro solo su Aliexpress sembra un'assurdità però è così nella ricerca potete appunto selezionare le spese di spedizione gratuite che è quello che vi consiglio io perché sinceramente a me non mi va di spendere soldi anche per le spedizioni quindi le metto quasi sempre gratuite ma comunque è raro che non trovate quell'oggetto che vi interessa con le spese di spedizione gratuite perché quasi tutti le hanno gratuite e potete impostare la fascia di prezzo potete impostare dal prezzo più alto al più basso dal più basso al più alto potete impostare la miglior opzione che sarebbe quella che vi porta il prezzo più competitivo con il riscontro più alto il riscontro viene dato in stelle le stelle vanno da 1 a 5 e vi fanno capire diciamo qual è il grado di soddisfazione dell'acquirente e le stelle così come le recensioni come vedremo successivamente sono importantissime per capire se è un prodotto vale la pena di essere acquistato oppure no detto questo scusate se faccio un po' di confusione o vi do informazioni random però non riesco di impostare bene il discorso perché ci sono davvero tante cose da dire e un'altra cosa importante che dovete sapere comunque è la dogana ne abbiamo parlato prima ma dovete anche sapere che sopra i 22 euro per legge il pacco dovrebbe essere fermato alla dogana e voi dovreste pagare una somma per lo sdoganamento e una somma per l'iva e eventuali controlli igienico-sanitari se comprate cose tipo make-up e tutto ora questo siccome siamo in Italia non succede quasi mai nel senso può darsi che il pacco viene fermato per farvi pagare appunto lo sdoganamento l'iva ma quasi mai viene fermato per controlli igienico-sanitari diciamo anche se non dovrebbe essere così di fatto io non compro mai niente di make-up ed è quello che sinceramente vi consiglio io di non comprare mai roba di make-up anche se purtroppo vedo gente che lo fa e questo non è un pregiudizio che io ho nei confronti dei cinesi perché altrimenti non userei Aliexpress per fare appunto i miei principali acquisti è una questione di buon senso semplicemente perché in Cina le norme igienico-sanitarie sono molto diverse da quelle europee loro non sono tenuti a rispettarle perché loro danno la possibilità di comprare in Italia ma può essere comprata in tutto il mondo quel prodotto quindi non devono rispettare determinate norme europee e tra l'altro non hanno neanche l'obbligo di pubblicare per intero l'inci del prodotto che state comprando quindi ad esempio se comprate un fondotinta non è detto che tutti gli ingredienti che ci sono su quel fondotinta siano tutti gli ingredienti che quel fondotinta contiene e poi appunto le norme igienico-sanitarie sono molto diverse ma comunque lo sappiamo che hanno una concezione igienica molto diversa dalla nostra quindi io preferisco non comprare roba da spalmare o che può essere assorbita in qualunque modo dalla pelle perché non sono certa di quello che c'è dentro e di come viene trattato quello che c'è dentro e quindi vi stavo dicendo che gli acquisti sopra i 22 euro potrebbero essere fermati ora vi ripeto ci sono molte persone che vi potranno dire a me non hanno mai fermato il pacco anche se costava 80 euro non me l'hanno fermato sì ok non te l'hanno fermato evidentemente ha passato i controlli perché qualcuno si è preso la responsabilità di far passare questo pacco senza controllarlo o semplicemente perché il cinesino che ve l'ha venduto è stato previdente e anziché inserire il prezzo 80 euro che era quello vero e proprio della vendita ha inserito un prezzo più basso tipo ad esempio 20 euro per farvelo passare però per legge è così potete cercarlo anche sul sito della Dogana dove c'è appunto esplicitamente scritto io non faccio ordini sopra i 22 perché si rischia che mi fermino il pacco alla Dogana poi a vostro rischio e pericolo potete anche farlo passare magari non vi succede nulla io ho comprato per una mia amica un casco da saldatore è costato 24 euro ed è passato tranquillamente alla Dogana quindi comunque ho l'esperienza anche io del fatto che può succedere che non ve lo fermano però ovviamente va a vostro rischio e pericolo io personalmente per me non faccio di questi acquisti perché se dovessi pagare anche l'IVA e lo sdoganamento il gioco non vale più la candela perché i prezzi sono molto stracciati se il prezzo aumenta tanto vale che me lo compro in Italia e finisce lì assenersi per favore sotto questo video i moralisti che mi dicono ah meglio comprare cose italiane comprate dove volete non volete comprare da Aliexpress non comprate da Aliexpress volete comprare soltanto su siti sicuri non volete comprare online fate quello che volete questo video comporta la piena libertà sia mia di poter acquistare dove voglio sia vostra di dire faccio una prova di acquistare su Aliexpress se no non comprare mai da Aliexpress così sono affari vostri che a me non riguardano io faccio questo video per le persone come me che vogliono comprare su Aliexpress e che come me all'inizio non sapevano dove metterci i mani perché l'app è un attimino complicata diciamo soprattutto la traduzione in italiano non è fatta bene non vi fa capire bene quali sono i vari passaggi che dovete fare solo per questo quindi non voglio dire che adesso da domani dovete incominciare a comprare solo su Aliexpress solo dalla Cina e mandare il mercato italiano in rovina perché non è così quindi per favore astenetevi da farmi questi commenti perché ve li cancello ve lo dico prima perché non c'entrano niente con il mio canale i moralisti fateli a casa vostra o nel vostro canale YouTube comunque detto questo ho fatto anche quest'altra premessa e mi sembra che non avevo nient'altro da dirvi e possiamo passare direttamente a farvi vedere come funziona l'app premesso che no prima vi faccio vedere un attimino la segnala del piano di sopra sto stendendo i vestiti adesso prima non vi faccio vedere prima vi dico cosa significa la protezione la protezione è un termine che vedrete molto adesso quando vi faccio vedere l'app nello specifico vi faccio vedere come si compra la protezione è appunto una protezione che Aliexpress va da voi quando acquistate per essere tutelati nel vostro acquisto il tempo di protezione è un tempo limitato che può essere di 20 30 40 giorni addirittura anche 100 giorni questo dipende dal venditore che ve lo assegna voi lo potete estendere il tempo di protezione quindi se il prodotto non vi è ancora arrivato scusate un po' di singhiozzo se il prodotto non vi è ancora arrivato potete benissimo farvi estendere il tempo di protezione potete farlo o della versione desktop del computer oppure chiedendo al cinesino sull'app di estenderlo lui stesso il tempo di protezione appunto come stavo dicendo è un tempo che vi tutela entro quel tempo voi potete aprire la controversia anche questo della controversia è un altro piccolo mondo però prima finisco la parentesi sulla protezione nell'arco di tempo in cui avete la protezione voi appunto siete tutelati dall'iexpress che vi permetterà di aprire appunto la controversia il tempo non deve mai scadere perché se scade il tempo il prodotto passa dalla casella degli acquisti che dovete confermare quando vi arrivano alla casella degli acquisti già confermati a cui dovete semplicemente rilasciare la recensione quindi oltre questo tempo all'iexpress da per scontato il prodotto vi sia arrivato quindi è importantissimo non fare scadere mai la protezione aprire la controversia prima che vi scada la protezione se non riuscite ad estenderla se il cinesino non vi risponde quando manca uno o due giorni alla scadenza della protezione siete autorizzati ad aprire controversia e qui arriviamo all'altra parentesi della controversia quando aprite una controversia praticamente dite una serie di cose che non vi stanno bene sul pacco che è arrivato o il pacco è arrivato danneggiato è arrivato un colore diverso da quello che ho ordinato taglia diversa descrizione diversa oppure il pacco non vi è arrivato quindi in quel caso appunto contestate al cinesino che vi ha venduto appunto la merce questa serie di cose che comunque l'app vi permette appunto di scegliere adesso dopo vi farò vedere e quando appunto aprite la controversia si svolge in questo modo voi dite non mi è arrivato il pacco ad esempio e aprite la controversia entro mi sembra o due o quattro giorni ma più sicuro quattro giorni il cinesino vi deve rispondere o vi risponde ok non ti arriva del pacco ti rito i soldi e quindi accetta la tua contestazione oppure contesta a sua volta e si tratta in realtà di un vero e proprio un vero e proprio processo difatti penso che se studiate giurisprudenza un pochettino ci riuscite ad entrare in questo meccanismo quindi se lui contesta vi dice ad esempio se voi contestate che non vi arrivate il pacco 90 su 100 quasi sempre loro vi chiedono di chiudere la controversia e di aspettare altri 10 giorni ad esempio oppure altri 20 giorni e così via premesso che quando chiudete la controversia non la potete più riaprire quindi non lo fate mai perché in quel caso lui sta cercando di fare il furbetto vi fa chiudere la controversia così voi non potete più riaprirla perché chiudendo la controversia all'aprita magari dopo scade tra due giorni io la apro al penultimo giorno lui mi risponde al terzo ultimo giorno allora in quel caso la protezione è già scaduta io apro la controversia io chiudo la controversia la protezione è scaduta il pacco va automaticamente nei pacchi arrivati e quindi non la posso più aprire perciò in quel caso non lo fate mai perché lui sta cercando appunto di fare il furbetto oppure vi può dire no non è vero che il pacco non ti è arrivato il pacco ti è arrivato perché ho controllato la posta altra stupidaggine perché quando i pacchi non sono tracciabili è quasi sempre non sono tracciabili e qui parte appunto un'altra parentesi sulla tracciabilità però ve la dico dopo e quindi quasi sempre i pacchi non sono tracciabili lui non può sapere dove è il pacco perché non lo sappiamo noi in Italia figuriamoci lui dalla Cina e quindi anche in quel caso sta cercando diciamo di prendervi in giro oppure ad esempio perché avete aperto la controversia perché la maglietta vi è arrivata di un colore diverso e lui può dire no dalle foto della descrizione in realtà il colore è quello però è leggermente sfasato perché è passato voi avete ordinato una maglietta azzurra che è arrivata a blu e quindi lui in qualche modo contesta la vostra parola voi dite una cosa e lui ne dice un'altra non riuscite a mettervi d'accordo perché lui non accetta la vostra parola voi a vostra volta non accettate la sua in quel caso voi dovete premere il tasto mi sembra che si chiami il tasto escalate comunque dopo ve lo faccio vedere e la controversia passa ad Aliexpress che fa da giudice mediatore e decide tra i due chi è che ha ragione e in quel caso può dare ragione a voi ad esempio se veramente la descrizione diceva azzurra e vi è arrivato blu oppure potrà dare ragione al venditore se in realtà siete voi che avete capito male e la maglietta era blu e non azzurra e quindi in quel caso ha ragione il cinesino e comunque non ho mai perso una controversia onestamente su 150 ordini l'avrò aperta circa 5-6 volte e la maggior parte delle volte è per prodotto non arrivato e in quel caso è quasi sicuro 100% che se è scalata da Aliexpress vi rimborsa e un paio di volte l'avrò aperta per prodotto non conforme e me ne hanno sempre ridati l'ultima volta l'ho aperta per un prodotto che il venditore portava nella descrizione del prodotto una taglia e nel titolo del prodotto un'altra taglia e io ovviamente mi sono affidata alla taglia della descrizione che era sbagliata perché lui si riferiva alla taglia del nome del prodotto che accanto al nome c'era praticamente la taglia però era diversa da quella della descrizione discorso un po' controverso comunque c'era stato questo qui pro quo tra me e il venditore e alla fine Aliexpress ha deciso di assegnarmi un rimborso del 50% però comunque qualche cosina me la da sempre è raro diciamo che non abbia ragione perché dovunque tranne in Italia chi acquista ha sempre ragione quindi però ovviamente sta a voi non aprire controversie per cose inutili cioè non si fa io conosco molte persone che lo fanno che magari gli arriva il prodotto e loro aprono la controversia dicendo che non è arrivato e comunque la trovo una cosa molto carina perché questa gente davvero vende e manda prodotti senza spedizione pagando comunque la loro spesa e la spedizione pagando anche il prodotto guadagnando un minimo irrisorio e ci mancate solo voi che aprite controversie per cose e questioni futili quando comprate una cosa per favore siete attenti alla descrizione o non cercate di fare i furbetti o le furbette perché la trovo davvero una cosa squalida comunque per 2-3 euro fare comunque tutti questi problemi solo per avere merce gratis e vi stavo dicendo appunto nel riguardo le taglie quando comprate qualcosa che deve avere una taglia che può essere un anello una collana se magari è troppo lunga o corta che può essere una maglietta un costume un vestito un paio di scarpe guardate sempre la tabella che trovate nella descrizione se non c'è fatevela mandare dal venditore dovete sempre affidarvi alla tabella non chiedete in giro quel vestito che hai comprato che taglia hai preso o che taglia corrisponde prendetevi le misure con un metro e confrontatele con la tabella e scegliete nella tabella in base alle vostre misure la taglia da prendere per il semplice fatto che uno non ha senso chiedere ad altri perché ognuno ha le sue misure e ad ognuno le cose calzano in maniera diversa perché ognuno ha il suo fisico e due se voi vi affidate le taglie non sbaglierete o se vi arriva una taglia sbagliata grazie alla tabella riuscite ad aprire una controversia e riuscite a farvi avere a riavere indietro i vostri soldi quindi mi raccomando non chiedete in giro delle taglie la tabella non vi dimenticate mai la tabella vi dovevo dire un'altra cosa però adesso mi è totalmente sfuggita quindi credo che passerò a farvi vedere direttamente l'app e poi se mi riviene in mente ve la dirò appunto durante la visione dell'app quindi adesso cambiamo inquadratura ok piccolo taglio al video perché mi sono dimenticata di inserire la parte in cui vi parlo della cosa più importante cioè come si paga su Aliexpress non esiste Paypal non esiste la posta il contrassegno dovete necessariamente pagare con AliePay AliePay funziona un po' come Paypal e di fatti vi dà comunque tutte le carenzie che vi più o meno tutte le carenzie che vi dà Paypal di cui vi ho detto la protezione la possibilità di aprire controverse la possibilità di avere un rimborso e quello che vi consiglio io è di usare una carta ricaricabile quindi una poste pay e non usate le carte di credito perché se ve la clonano è un problema cosa che solitamente non succede di fatti quando fate il primo acquisto la vostra carta verrà automaticamente salvata sul vostro profilo alcuni pensano che sia una cosa brutta in realtà non lo è perché quando viene registrata sul sito ufficiale siete totalmente garantiti invece se la dovete andare a reinserire tutte le volte magari non ve ne accorgete vi si apre una pagina dove voi pensate di essere su Aliexpress ma in realtà non lo siete inserite vostri dati e inserite vostri dati e improvvisamente vi clonano la carta quindi io vi consiglio di fare come faccio io io l'ho lasciata praticamente attaccata direttamente al mio profilo e uso appunto una poste pay ricaricabile che uso solo per acquisti online quindi ricarico all'occorrenza di modo appunto da stare sicura del fatto che non me la clonano e vi consiglio appunto di fare così anche voi quasi tutti gli acquisti che fate solitamente come vi dicevo prima sono posta non tracciabile però alcuni hanno anche la posta tracciabile e vi mandano il numero di tracciabilità vi mandano veramente sempre un numero appunto del pacco ma la maggior parte di questi numeri non sono tracciabili e se volete tracciare il pacco vi dice già come farlo quando appunto fate l'acquisto solitamente solitamente usano il sito 17track mi sembra che si dica così comunque lo scrivo qui sotto per essere sicura e tramite quel sito potete tracciare la vostra posta se è tracciabile se non è tracciabile è ovvio che non ve lo traccerà io mi sono scaricata comunque l'app 17track e da lì appunto mi viene più facile andare a controllare i track dei pacchi quando questi ci sono solitamente i pacchi tracciabili incominciano per R tutti quelli che incominciano con altri numeri solitamente non sono tracciabili quando pagate una cosa cara e per cara intendo 15-20 euro solitamente la posta è quasi sempre tracciabile quindi siete più sicuri se volete fare un acquisto un po' più sostanzioso e negli altri casi solitamente no allora ci siamo qui c'è l'app vi consiglio di acquistare sempre da app perché fanno numerosi sconti nell'app rispetto alla versione desktop ed è anche più comoda da utilizzare quindi apriamo l'app questa è la schermata home principale questa è abbastanza carina da farvela vedere perché ci sono i marchi rappresentativi che comunque sono quasi sempre prodotti a prezzi abbastanza elevati poi i miei preferiti che sono vari prodotti che magari ho visto o che potrebbero piacermi collezione negozio non so cosa sia nuovi arrivi vabbè questo già lo sappiamo ci sono gli omaggi gli omaggi è una cosa che hanno introdotto da poco se voi andate a cliccare su potete farvi mettervi in lista per avere un omaggio ci sarà poi un'estrazione e tramite appunto l'estrazione vedrete se avete vinto oppure no se avete vinto pagate un centesimo per avere appunto la merce altrimenti niente potete riprovare non non pensate che non sia che non sia vero diciamo che si vince perché conosco diverse persone che hanno vinto a tal proposito se vi state chiedendo dov'è che so di queste persone che hanno vinto è semplicissimo perché sono iscritta ad un gruppo che si chiama acquisti su Aliexpress se non mi ricordo male comunque vi metto il link nella descrizione di questo video dove ci sono appunto un sacco di persone che acquistano da Aliexpress dove potete farvi dare una mano e soprattutto dove ci sono degli album degli arrivi divisi in categorie da oggettistica vestiti per bambini vestiti per adulti di modo che potete vedere dal vivo e parlare direttamente con le persone che hanno acquistato per avere un acquisto ancora più sicuro ora vi faccio un esempio di come mi metto in lista per un prodotto tipo questo costume ah no l'ho già richiesto vabbè questa borsa qua ah questo cos'è? un bracciale finisce tra 6 giorni quindi richiesta gratis io devo aggiungere alla lista dei miei negozi preferiti il venditore poi faccio conferma e prosegui dopodichè mi sono messa in lista appunto per richiedere questo omaggio comunque tornando alla schermata principale qui abbiamo gli omaggi e qui abbiamo delle foto dei compratori queste sono bellissime perché sono le foto degli arrivi e già questi vi danno un primo input su cosa acquistare e quali sono le cose per le quali vale la pena ad esempio questa ragazza ha pubblicato questa foto di questa tutina la tutina qui costa 12 euro e 31 no dollari quindi più o meno 12 euro e guardate com'è carina quindi vi arriva comunque un prodotto che sembra davvero carino addosso alle altre persone vedete anche qui altre foto davvero carina questa tutina allora a questo punto siccome costa poco ora ultimamente sta dando l'app dei problemi perché non riesco appunto ad entrare nell'inserzione ma credetemi che solitamente cliccando qui si riesce ad entrare però un po' di giorni che dà questo problema quindi a questo punto non posso metterla nella lista desideri comunque solitamente ci cliccate si apre e la inserite nella lista desideri e qui ci sono appunto tutte le varie foto vabbè adesso non ve le faccio vedere tutte e poi ci sono le scelte top che sono tipo i prodotti quelli appunto più competitivi e altre cose fino a scorrere e questa è la schermata omo però arriviamo appunto al dunque qui c'è ci sono appunto le varie categorie e qua già potete navigare senza mettere la parola chiave trucco auto elettronica salute bellezza computer ufficio e così via e potete selezionare il prodotto che vi interessa però noi passiamo al mio account allora questo è il mio account e qui appunto c'è tutto quello che dovete sapere sul mio account intanto io sono appunto una due si cresce di livello si passa da zero fino ad a cinque e a due ci passi ci arrivi dopo i cento acquisti e poi pian piano man mano che stai ci sono cinquecento mille acquisti fino ad arrivare a due mila acquisti dove appunto diventi a cinque e questo segnalino sa significare che siete dei buoni compratori e quindi riceverete i rimborsi in meno tempo perché solitamente per un rimborso ci vogliono fino a 15-20 giorni quando appunto salite di livello ci mettono appunto di meno tipo anche solo 24 ore quando siete appunto a livello a cinque per avere un rimborso ma in realtà diciamo che non serve a granché e allora qui c'è praticamente il mio storico ordini questi sono gli ordini completati 143 questi sono gli ordini in attesa di spedizione quindi prodotti che mi devono ancora spedire e questi sono gli ordini in attesa di conferma sono cose che io ho già acquistato che sono state spedite che stanno aspettando praticamente che arrivi ora io vi voglio fare vedere questo prodotto qui ho comprato questa maschera diversi mesi fa in particolare l'ho comprata giorno 20 gennaio quindi è passato un bel po' di tempo e io la sto già dando per dispersa perché solitamente dopo che passano tre mesi le cose non arrivano difatti la scadenza è qui tra cinque giorni e ho chiesto al venditore di allungare la protezione con un messaggio ho scritto allunghi la protezione in italiano perché questo solitamente lo capiscono perché protezione e protection in inglese si capisce quindi questa è l'unica cosa che scrive in italiano lui mi ha risposto questa paradella che non ho visto qui neanche comunque a tradurre anche perché non so che cosa c'è scritto ma la devo ancora tradurre pure io e comunque non mi ha allungato la protezione quindi penso che tra due giorni e due o tre giorni aprirò la controversia qua potete fare conferma di ricevimento se avete ricevuto l'ordine oppure apri la controversia quando aprite la controversia vi dice avete ricevuto il vostro pacco sì o no se non l'avete ricevuto vi da questa qua dovete praticamente compilare questo questo form inserite anche due parole insomma per spiegare il fatto che non vi è arrivato il pacco potete inserire anche delle foto e poi fate submit e aprite la controversia oppure in caso che avete ricevuto il pacco vi apre invece quest'altro form quindi avete avuto problemi di qualità il prodotto non è come descritto il prodotto è danneggiato e così via e qui mettete praticamente la vostra soluzione ritornare la merce è avere un un rimborso completo ritornare la merce è avere un rimborso parziale non ritornare la merce è avere un rimborso completo non ritornare la merce è avere un rimborso parziale dovete mettere sempre che non volete ritornare la merce non per cattiveria ma semplicemente perché le spedizioni da qui alla Cina vi costano un minimo di 15 euro quindi non ne vale proprio la pena e poi mettete appunto sempre una descrizione potete caricare delle foto e fatelo sempre quando aprite la controversia perché il prodotto ad esempio non era come descritto perché sono una dimostrazione del fatto che non state raccontando balle quindi dovete mettere sempre le foto ad esempio se il prodotto solitamente mi arriva di una taglia che non era quella che avevo scelto faccio la foto del prodotto con accanto il metro di modo da dimostrare che effettivamente c'è una differenza di centimetri e il prodotto appunto non era della taglia descritta e questa appunto è la controversia quando fate ricevimento dell'ordine l'ordine passa da qui dagli ordini attesa di conferma a lascia un riscontro e qui dovete appunto semplicemente rilasciare una recensione se volete potete mettere le stelle potete scrivere qualche parola e caricare appunto la foto del vostro arrivo caricate sempre la foto del vostro arrivo perché comunque è una cosa carina anche per le altre persone che compreranno dopo di voi io solitamente lo faccio sempre questo appunto è l'ordine completato quindi sono tutti gli ordini che ho fatto io completamente tutti e poi invece passiamo alla lista dei desideri questi sono tutti i prodotti all'interno della mia lista dei desideri per aggiungere un prodotto alla lista dei desideri basta semplicemente cliccare sull'inserzione aprirla e cliccare sul cuore quando il cuore è nero non è in lista dei desideri quando il cuore è rosso diventa un prodotto della lista dei desideri questo anzi lo voglio togliere dalla mia lista dei desideri perché non avevo fatto caso che c'è anche appunto una spesa di spedizione ora passiamo invece a comprare qualcosa e mettiamo visto che stiamo in tema bikini 2016 ad esempio qui voglio fare una ricerca innanzitutto voglio prodotti senza spese di spedizione quindi qui c'è il filtro che scompare quando voi scendete ma ricompare quando voi salite quindi mettete filtro spedizioni gratuite poi non mi interessano i bikini che costano meno di 3 euro perché mi arriverebbe una schifezza ad esempio io non lo metto solitamente però per farvi un esempio però allo stesso tempo non voglio spendere più di 10 euro quindi metto 3 10 euro ora qui vi da miglior abbinamento quindi tante recensioni per un prezzo competitivo però a me delle recensioni non me ne frega niente perché così voglio comprare scatola chiusa che non è quello che vi consiglio io però se volete potete mettere il prezzo alto più dal che sarebbe prezzo dal più basso al più alto e vi compaiono quelli che partono da 3 euro fino ad arrivare ad un massimo di 10 e poi scorrendo io vi consiglio di fare sempre il prezzo dal più alto al più basso soltanto se avete già visto se ad esempio avete visto quel bikini che vi piace perché avete visto la foto dell'arrivo di una ragazza però volete vedere se anziché 8 euro lo trovate magari a 7 a 6 a 5 euro allora magari ricercate appunto quel bikini che aveva un fiocco quindi scrivete ad esempio bikini fiocco ovviamente sempre in inglese però non so come si dice fiocco in inglese in questo momento quindi scrivete bikini fiocco 2016 e vi spunta e fate una ricerca dal prezzo alto più dull quindi dal prezzo più basso al prezzo più alto per vedere se c'è qualche altro venditore che vende lo stesso oggetto ad un prezzo notevolmente appunto più basso di modo da risparmiare qualche cosina solitamente io uso di Express tento di risparmiare anche quei 50 centesimi un euro perché comunque con 50 centesimi un euro già qualcosa ci compri perciò li puoi investire in qualcos'altro quindi io vi consiglio di usare questa opzione soltanto in questo caso però per il resto affidatevi sempre il miglior abbinamento ora ad esempio qui mi dice che il migliore è questo questo bikini è addirittura qui mi dice che sono già stati fatti 769 ordini che 4.563 persone c'erano in lista desideri e che riscontro è 4.8 il massimo è 5 quindi comunque è un buon riscontro feedback più recenti qui ci sono tutti all 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 non lo so come si dice comunque tutti poi potete selezionare solo quelli con foto e qui ci sono solo quelli con foto e sembra comunque carino anche come sta sugli altri verificando così anche la qualità qui ci sono anche quelli italiani nessun italiano però ha comprato questo prodotto e poi potete selezionare anche quelli che hanno messo solo una stella quelli che hanno messo 2, 3, 4 qui la gente ha messo solo da 3 stelle in su perché 2 e 1 non compare niente quindi comunque si vede che è un buon bikini con un buon rapporto qualità prezzo e questo comunque è un esempio quando dovete acquistare vabbè semplicissimo dovete prima andare in descrizione che dovete leggerla sempre prima di acquistare dove ci sono scritte tutte le foto i vari colori e poi qui abbiamo la tabella che è appunto quella a cui dovete fare riferimento per comprare qualunque cosa come vi avevo già detto prima e questa è importantissima se non la trovate qua basta semplicemente andare sempre sul prodotto dopo descrizione merce troverete l'info sul negozio e poi contatto il venditore oppure vai direttamente allo store e in questo modo riuscite appunto a mettervi in contatto col venditore relativamente a questa merce qui che è questo bikini e comunque io penso di avervi detto insomma tutto sull'app abbiamo parlato appunto della protezione degli acquisti di come comprare di come cercare non credo non credo che mi sia rimasto altro da dirvi per qualunque cosa comunque scriverò qualcosa nella descrizione se mi sono dimenticata di aggiungere qualcosa e spero che questo video vi sia stato utile appunto per i vostri prossimi acquisti e poi magari successivamente farò un video di tutte le cose magari che ho comprato così da farvele vedere adesso sto aspettando diversi acquisti di costumi vari vestiti che ho preso a poco prezzo e mi piacerebbe mostrarveli fatemi sapere magari con un like se questo video vi è stato utile o se volete che vi faccio vedere appunto i miei acquisti o se avete qualche domanda scrivetemela magari appunto nei commenti e ci vediamo al prossimo video spero di non avervi annoiato troppo anche se questo video è stato lungo a presto